Salve a tutti! Continuiamo oggi la realizzazione dello stadio di convertitore a mezzo ponte con la parte relativa all'analisi dello schematico. Quindi ecco qui riportato già sul foglio quello che sarà il circuito del convertitore e come si può vedere già ad occhio risultano essere presenti pochi componenti e soprattutto il circuito si mostra molto compatto e molto chiaro nelle sue parti. Quindi da questa parte abbiamo chiaramente lo stadio di primario, da questa parte lo stadio di secondario e qui in mezzo abbiamo il trasformatore ad alta frequenza. Ovviamente nonostante questo circuito presenti pochi componenti in realtà molti di essi sono davvero ingombranti soprattutto per quello che poi riguarderà il trasformatore ad alta frequenza. Quindi partendo dall'ingresso abbiamo che qui sono situate le due tensioni di alimentazione quindi quella a 400 volt per quando riguarda lo stadio di mezzo ponte quindi l'alimentazione di potenza e qui la 12 volt che sarà un'alimentazione ausiliaria generata in modo separato per andare appunto ad alimentare il driver del mezzo ponte. Come driver è stato scelto il part number IR 21 53 che risulta essere molto compatto, ha la caratteristica di essere anche auto oscillante quindi con questo ramo RC si va a fissare la frequenza e poi lui in modo autonomo genera la PWM per il lato low side ed il lato high side. Qui poi incontriamo lo stadio di mezzo ponte vero e proprio quindi i due attivi di potenza con i due condensatori dove al nodo centrale verrà connesso uno dei capi del trasformatore ad alta frequenza. I due condensatori avranno un valore di circa 50 microfarad ciascuno e che risulta un valore sufficiente per quella che poi sarà la frequenza minima di questo circuito che sarà pari proprio a 50 KHz quindi ancora non ho deciso quale sarà la frequenza però sotto i 50 KHz non si scenderà e quindi come valori ci siamo per quella che poi sarà la potenza in effetti richiesta al convertitore. Come attivi invece non ho ancora deciso quali userò, infatti la decisione spetterà alla scheda perché quando poi li andrò a montare quelli che risponderanno meglio saranno i candidati migliori quindi io spero di utilizzare questo part number che corrisponde ad un IGBT però se dovesse andare male verranno utilizzati dei mosfet e quindi poi in base di debug farò questa scelta. Infatti come abbiamo visto anche nei precedenti video sul canale essendo che molti dispositivi poi non corrispondono a quelli reali sono costretto ad essere un po' cautelativo. Infine prima di arrivare allo stadio di mezzo ponte ci sarà questo induttore del valore di circa 100 µR. Questa decisione è stata presa per evitare che disturbi di condotte possano arrivare allo stadio precedente di PFC quindi questo induttore avrà la funzione di choc quindi funzionerà come generatore di corrente che spinge sullo stadio di mezzo ponte. Questo diciamo ha il vantaggio di evitare che le condotte tornino indietro però ha anche lo svantaggio di sollecitare molto questi due condensatori quindi nel caso in cui poi dovessi riscontrare troppi problemi vedrò o di abbassare questo valore o comunque di eliminare questo induttore. Successivamente incontriamo quindi il trasformatore ad alta frequenza e questo induttore di ZVS. Qui c'è da fare un piccolo discorso perché in genere il convertitore a mezzo ponte ha solo il trasformatore ad alta frequenza. Quello che invece monda un induttore di ZVS è il convertitore LLC. Io sto cercando di fare una sorta di ibrido. Infatti il vantaggio di un LLC fatto per bene che i mosfet commutano in soft switching quindi si accendono in ZVS e si spengono in ZCS. Invece in un convertitore a mezzo ponte come questo i mosfet si spengono sempre in hard switching quindi non in ZCS ma potrebbero accendersi in ZVS e questo dipende dal trasformatore. Infatti se la leakage del trasformatore è sufficientemente elevata quello che succede è che consente questo tipo di commutazione. Ora, essendo che non so a priori come poi sarà in effetti il trasformatore, voglio essere prevenuto e montare, quindi prevedere di montare, anche un piccolo induttore esterno che possa favorire questo fenomeno. Infatti nel caso in cui non riuscissi a montare degli EGBT e dovessi scegliere di montare dei mosfet, diciamo che un mosfet su un mezzo ponte che non si accende in ZVS non credo che possa reggere lo shock, soprattutto in quanto le caratteristiche del diodo di body dei mosfet in alta tensione non è per niente rassicurante. Per quanto riguarda infine la scheda di secondario abbiamo quindi il ponte intero di raddrizzazione e il condensatore di livellamento, quindi come se si trattasse proprio di un ponte per la raddrizzazione dell'onda sinusoidale della rete elettrica, però fatto con diodi molto più prestandi, quindi saranno degli shot key ad alta frequenza ed alte correnti, quindi sarà un package TO220. Per quanto riguarda il layout su PCB abbiamo che è necessario montare il circuito su due schedine, anche se in effetti l'ingombro finale penso che sarà molto più grande in quanto qui in mezzo manca ancora il trasformatore. Partendo dalla prima, quindi dal primario, abbiamo qui l'ingresso a 400V, quindi poi c'è un fusibile di 3A e l'induttore e poi si arriva subito allo stadio di mezzo ponte, quindi qui si possono vedere i quattro slot dedicati agli attivi con i due condensatori elettrolitici da 47 microfarad e altrettanti due in tecnologia polimerica perché appunto siamo su un mezzo ponte che switcha con elevati ripple di corrente, quindi è necessaria questa configurazione e poi come si può vedere qui in mezzo verrà prelevata l'uscita del trasformatore. Qui abbiamo lo stadio di driver e inoltre, come specificato in precedenza, nel caso in cui userò degli IGBT verranno utilizzati solo questi due slot, mentre nel caso utilizzassi dei MOSFET verranno utilizzati tutti e quattro. Sulla scheda di secondario invece troviamo i quattro slot per i diodi di raddrizzazione che sono appunto come detto dei TO220 quindi andranno poi anch'essi dissipati. Qui c'è l'ingresso quindi del secondario del trasformatore e qui ci sono i condensatori di livellamento, quindi sempre uno elettrolitico e uno polimerico. E qui abbiamo l'uscita del convertitore dove saranno montati due fusibili da 15A ciascuno in modo da evitare che la potenza di uscita possa, in caso di cortocircuito o di rottura dello stadio a valle, possa superare valori che comprometterebbero l'integrità del mezzo ponte. Inoltre sulla scheda di secondario c'è da notare che, così come è stato fatto per lo stadio di Bach, c'è il rinforzo delle piste perché le correndi saranno molto elevate, quindi come già fatto verrà adottata la stessa tecnica, quindi doppia pista di rame sotto la PCB e poi un rinforzo ulteriore dalla parte superiore della PCB con dei conduttori di rame, quindi in modo da annullare quelle che saranno le perdite resistive sulle piste. Molto bene, per questo video quindi è tutto, alla prossima!